Da come è andata oggi dobbiamo essere d'un lato orgogliosi di quello che abbiamo fatto contro una grande squadra, una squadra che è creata per andare in Europa in questo campionato e finire tra le prime quattro. Noi abbiamo tenuto la partita fino alla fine e anche in certi momenti abbiamo cercato di attaccare con i men, siamo arrivati all'area avversaria, abbiamo potuto anche segnare. Poi è una squadra che ci ha attaccato tanto, noi abbiamo difeso molto bene, siamo stati insieme, compatti e all'ultimo episodio vi lascio commentare a voi. Questo calcio dei rigori, altri episodi che sono successi oggi come le altre squadre, noi come società spezia calcio mi aspetto le scuse. Cosa possiamo fare? Peccato perché sembrava veramente il traguardo era vicino, pensavo veramente, credevamo di avercela fatta e niente c'è stato questo rigore, peccato che siano riusciti a trasformarlo altrimenti sarebbe stato un punto d'oro. Alla fine ho fatto il mio dovere, sapevo che in una partita così a maggior ragione poi rimasti uno in meno, dovevo fare tra virgolette gli straordinari però insomma c'è sempre rammarico per aver subito proprio la fine. Per salvarsi bisogna fare imprese, è così, siamo una piccola e bisogna fare qualcosa straordinario e sicuramente faremo di tutto per portare a casa punti anche a Torino.